ciao a tutti e benvenuti su magis of lotus allora prima di iniziare vi ricordiamo di iscrivervi al canale di lasciare un like di attivare la campanella e di commentare se volete allora vi devo tirare le orecchie perché siete in tante a vedere video ma i like sono troppo pochi allora se volete sostenere il canale e farlo diventare sempre più grande lasciate qualche like in più perché per noi vuol dire tanto ed è un solo click quindi veramente veramente poco e allora in questa in questo video parliamo di dei formati magic e di quali economicamente sia più conveniente e più con prospettive migliori iniziare ora e giocare in questo momento l'ha visto che anche nel canale telegram c'è tanta discussione sui formati chi gioca uno gioca l'altro eccetera mi è sembrato giusto fare questo video che è diviso in due parti quindi questa è la parte 1 poi ci sarà la parte 2 prendendo come parametri 4 appunto parametri che secondo me sono importanti per decidere quale sia il formato più accessibile migliore economicamente con più prospettive allora il primo è il bacino d'utenza quindi andremo a dare un voto da 0 a 5 per il bacino d'utenza quindi più grande il più il voto sarà alto meno grande più il voto sarà basso poi la versatilità delle carte che si giocano in quel formato che una cosa molto importante a livello economico perché se una carta si gioca solo in quel formato molto probabilmente non varrà troppi soldi invece se ha più usi in più formati molto probabilmente varrà di più ed avrà anche prospettive migliori poi le prospettive future quindi come vede il formato cioè se il formato salirà o scenderà nel gioco organizzato real e la quarta è l'accessibilità altra cosa molto importante perché se un formato adesso andremo a vedere il formato che è arrivato ultimo in questa classifica secondo me che è il vintage ovviamente è poco accessibile tutti questi discorsi vanno a farsi friggere no quindi è un dato molto molto importante allora iniziamo con tra l'altro nei commenti ditemi la vostra se siete con se siete d'accordo con i voti che ho dato io e se volete dateli anche voi noi li guardiamo senza problemi vi rispondiamo allora vintage la vintage è il formato dove tutto è legale pratica quasi tutto e tranne le carte che per le carte che hanno effetti troppo strani quindi bisogna lanciarli sopra altre cose eccetera non sono legali ma in realtà tutte le carte di magic reali sono legali però ci sono tantissime tante carte limitate a uno come per esempio le p9 tutto il resto il formato praticamente non si gioca più live per per più motivi il motivo principale che in pochi hanno le carte e l'altro motivo che i pochi che ce l'hanno tendono a non farli uscire da casa perché comunque si parla di deck da 20 30 40 50 mila euro tranquillamente ormai se fate conto che un lotto unlimited sta sui 12 mila circa io non seguo il prezzo del lotto ogni giorno visto che non mi occupo di black lotus però se pensate che appunto il lotto sta 12 mila il mazzo bene o male poi se uno la possibilità di avere lotto e le altre p9 magari pimpon po quindi la carta da 30 euro magari la versione foil particolare da 100 quindi allora ma direi di dare i voti e non soffermarci troppo sul vintage perché un formato veramente un po così arrivato ultimo nella nostra classifica allora come bacino utenze ho dato zero non c'è un bacino d'utenza per raccattare 30 40 giocatori veramente difficile parliamo di gioco live non di gioco online e parliamo di gioco live no proxy perché se parliamo di gioco live con le proxy è una cosa diversa tra l'altro la wizard non supporta questo tipo di gioco e i negozi che lo fanno spesso o non hanno il livello oppure sono negozi che se ne fregano un po però in teoria le policy della wizard sono abbastanza ferme su questa cosa quindi bacino utenza zero versatilità delle carte invece ho dato tre perché tante carte sono giocabili legacy e tante giocarte sono giocabili in in commander quindi in realtà la versatilità delle carte non è male non è male e poi l'abbiamo tirato un po su se no veramente poi abbiamo il terzo parametro che sono le prospettive future e anche qui ho dato un voto allora se parliamo del formato in sé il voto sarebbe zero perché non ci sono prospettive per il formato se parliamo a livello economico delle carte invece più alto diciamo che facendo una media darei un 2 perché le prospettive per il formato giocato e sono 0 e 0 le prospettive economiche invece sono molto buone e 45 perché le carte salgono quindi se uno si approccia al formato vintage e riesce a comprarsi un deck difficilmente quel deck dopo due anni varrà meno quindi c'è questa media da fare quindi direi di dare 2 e poi l'ultimo l'accessibilità ho dato 0 perché si poteva dare 1 0 è veramente quasi inaccessibile il voto totale 5 quindi 5 con quattro parametri da 0 5 veramente basso infatti vintage lo mettiamo all'ultimo posto e del formato che purtroppo live è relativamente molto quindi vintage l'abbiamo fatto il legacy il legacy non è come il vintage ma sta prendendo quella strada lì ovviamente non essendoci le p9 legali è tutta un'altra cosa perché le p9 alzano veramente tanto il costo del formato qualcosa di legacy live si fa ci sono in italia soprattutto ci sono tornei veramente grossi live con senza proxy quindi questo vuol dire che il formato non è morto la gente vorrebbe giocarlo però i prezzi la riserva list che è salita negli ultimi anni ha reso molto molto poco accessibile il formato e quindi questo penalizza un formato che in realtà è molto bello però vediamo subito i voti così vediamo subito anche l'accessibilità che è un voto molto importante e però partiamo dal bacione utenza bacione utenza purtroppo gli dobbiamo dare uno potremmo dare i due però il bacione utenza live veramente piccolo tra l'altro noi per esempio chi ci ascolta da torino siamo fortunati perché c'è diversa gente che ha le carte che vuole giocare il formato però tolti noi la toscana in cui so che giocano tantissimo legacy sono molto legati ai formati antichi nel resto d'italia è difficile ovviamente a roma milano sicuramente avranno delle community di legacy e questo non lo metto in dubbio anche bologna però non è un formato con un bacione utenza ampio diciamo che uno o due come bacione utenza come voto ci potrebbe stare versatilità ho dato tre stesso discorso del vintage tante carte si giocano in commander e quindi tre ci può anche stare comunque le carte c'è una volta che avete le dual le giocate in commander però quelle sono delle carte molto molto importanti anche per commander quindi ci può stare e il terzo parametro che sono le prospettive future ho dato due perché a livello economico anche qui le prospettive future sono buone ma le prospettive a livello di gioco live sono pessime quindi perché più si alzano i prezzi meno sarà accessibile il formato infatti accessibilità ho dato uno e questo crea otto come voto totale seguendo i nostri quattro parametri quindi un formato che non consiglierei a praticamente nessuno che inizia a meno che non abbiate tante tante possibilità economiche allora in quel caso può essere anche un buon investimento passiamo a pre-model allora vi metto la banlist perché non ho trovato riferimenti all'history price di pre-model allora pre-model è un formato che si basa su questi set quindi quarta edizione scorge chi segue il canale dall'inizio sa che l'abbiamo provato a spingerlo perché ci divertiva come formato però purtroppo non siamo riusciti l'ho messo comunque perché qualcuno che ci gioca c'è anche se sono veramente pochi ed appunto siamo legati a questo formato io edisma e allora bacino d'utenza zero ci sono delle community in America e in Spagna in Spagna ho visto che più di un negozio fa tornei da 10 persone 10-12 persone e non è male assolutamente non è male però in Italia per esempio non ha preso non conosco community ci saranno anche in Italia qualcuno che gioca a pre-model però non le conosco durante il lockdown il covid l'anno scorso sono salite delle carte per pre-model foil e stanno continuando a salire quindi questo vuol dire che comunque qualcuno che le compra c'è e sono anche dei buoni investimenti le foil all layout come vi ho consigliato in una Pils però il bacino d'utenza è bassissimo la versatilità ho messo 4 perché le carte sono giocabili sia in Legacy che in Commander avrei potuto dare 3 siamo lì e anche in Pauper perché ci sono delle carte da Pauper che si giocano per esempio Brainstorm adesso è bannato Brainstorm dicevo come carte in sé e come potete vedere la Baldist ci sono diverse Reserved e questo ha abbassato il costo del formato compresa la Force of Will che non è una Reserved infatti è una non comune però è bannata però è un bel risparmio se dovete giocare a questo formato andiamo nei deck perché il terzo parametro sono le prospettive future e pre-model ne ho dato due ma è una prospettiva economica se prendete la Reserved che si gioca qua tipo l'Intuition per esempio sono buoni investimenti e la prospettiva a livello di gioco avrei dato uno perché non credo che esploderà a breve la speranza c'è sinceramente perché è un bel formato però forse più andiamo avanti e più ci sono possibilità e l'ultimo l'accessibilità ho dato 3 invece perché è vero che ci sono le carte in Reserved però se guardate questo deck qua non ha un costo eccessivo e per esempio vediamo se lo trovo un mazzo giocabile nel formato UG Madness che è un mazzo veramente poco costoso cioè un mazzo che con 50 euro tolte un paio di carte voi vi fate ma anche il classico mono rosso cioè ha 8 fetch che non sono fondamentali sono importanti perché abbiamo i lavamanti però non sono poco fondamentali e comunque sono carte che hanno una versatilità alta ma il resto cioè gli Insinerate e Firebolt non valgono niente i Le Jackal Puppet non valgono niente i Goblin Petrol non valgono niente questi non valgono niente e quindi è accessibile ci sono alcuni mazzi che costano tanto è vero ma tanto tanto però il formato ti dà la possibilità di scegliere fra 4, 5, 6 deck che costano veramente poco quindi per tutte le tasche si qua non c'è Madness ma Madness è giocabile e costa veramente poco quindi la media il numero di voti totali è 9 e lo consacra al terzo e ultimo posto della nostra classifica al settimo perché sono 9 formati passiamo al sesto e qua è la price list tipo totale di standard e abbiamo appunto questo formato qua allora è uno dei formati che era perso di più a causa della pandemia e quindi adesso è veramente poco giocato live se parliamo di MTG Arena ovviamente è diverso perché MTG Arena è una piattaforma che è stata creata per far giocare standard all'inizio quindi lì è giocato però live veramente veramente poco è morto standard secondo me no le prospettive future non credo che siano male perché secondo me ripartirà un circuito prima o poi sponsorizzato dalla wizard quindi tipo pptq tipo ptq e quindi loro ti costringeranno a giocare standard e quindi anche il valore delle carte risalirà quindi vediamo i voti bacino d'utenza dello standard ho messo 2 in questo momento dello standard live ho messo 2 perché veramente pochi ci vogliono giocare la versatilità delle carte ho dato 3 perché le carte sono giocabili spesso in modern qualcuna e tante in pioneer e molte anche in commander quindi in realtà se voi avete un kernel di carte standard dovete solo fare attenzione a vendere quelle che si giocano solo in standard però le altre si possono ottenere e col tempo salgono l'ultimo fattore no scusate prospettive future ho dato 3 no 2 ho dato 2 perché le prospettive economiche future nel breve sono brutte nel senso che le carte non valgono tanto degli ultimi set sono tutti set brutti e e questo comunque non dà prospettive future buone prospettive future a livello di gioco purtroppo credo che ci sia ancora un po' da aspettare per via della pandemia e quindi 2 se lo prende tutto e l'ultimo ho dato 3 per l'accessibilità perché è accessibile i mazzi standard non sono mai costati troppo la cosa che però la gente non capisce non conta all'inizio quando incomincia a giocare standard è che tu non è che compri un mazzo oggi e lo tieni 6 mesi tu compri un mazzo oggi di standard e poi dopo 2-3 mesi magari lo devi cambiare di nuovo e poi di nuovo e poi di nuovo quindi in realtà la spesa poi alla fine è tanta quindi accessibilità ho dato 3 e voto totale di standard 10 che lo issa al quarto ultimo posto al sesto posto della classifica se nello sbaglio al quinto Pioneer allora Pioneer ha delle valutazioni simili allo standard anche lui è stato colpito duramente dalla pandemia però adesso i prezzi sono bassi dei mazzi Pioneer tendenzialmente e quindi in realtà sono acquistabili alcune carte negli ultimi 2-3 mesi sono salite per esempio come vedo l'Eidolon che stava più basso l'Assy Soarin Bloodlord e Teferi però non sono saliti principalmente per questo formato sono saliti di riflesso perché sono saliti per Modern Commander eccetera quindi la base comunque dei mazzi costa poco quindi è un buon momento per investirci secondo me però veniamo ai voti allora Pioneer ha preso 1 come bacione utenza c'è poca gente che ci vuole giocare nel mondo in questo momento avrei potuto dare 2 anche qua però ho dato 1 perché secondo me la possibilità di crescita è un 1 propositivo non è un 1 negativo nel senso che la possibilità di crescita del formato è tanta cioè il bacione utenza è ampio quindi quelli che ci giocano adesso sono veramente pochi poi la versatilità delle carte uguale a standard ho dato 3 perché comunque le carte che si giocano in Pioneer si giocano anche in Modern in Commander e tra l'altro è il 4 sono stato un po' duro forse con Pioneer e le prospettive future ho dato 3 perché sia economiche sono buone perché comunque adesso è un buon momento per acquistare carte di Pioneer e sia a livello di gioco secondo me sono buone perché quando ripartiranno i tornei organizzati a Wizard ci costringeranno a giocare anche Pioneer e quindi sono buone e il formato secondo me non è male e l'ultimo l'accessibilità ho messo ho dato 4 perché appunto adesso i prezzi sono bassi quindi è molto accessibile quindi è un ottimo formato per iniziare a giocare a livello economico dovete avere anche una community che gioca nella vostra città altrimenti pagate magari poco il deck però poi lo giocate da soli quindi non ha senso dovete prima informarvi su questo e ah un altro consiglio che vi do su questa cosa fidatevi il giusto dei negozianti nel senso che se entrate in un negozio e chiedete al negoziante ma io vorrei ricominciare a giocare a un gioco di carte barra formato di magic fate attenzione a quello che vi dice il negoziante perché purtroppo a volte vi dicono cose per i loro interessi quindi non tutti ovviamente questa è una cosa che può capitare non sto facendo di tutta l'erba un fascia assolutamente però l'ho visto capitare diverse volte nella mia vita e quindi magari frequentate quel negozio per un po' prima di iniziare un gioco barra un formato così potete vedere se veramente torna i partono di quel formato se c'è una community se è attiva e questo è molto molto importante allora siamo giunto alla conclusione di questo video spero vi sia piaciuto la prima parte uscirà brevissimo la seconda iscrivetevi al canale lasciate un like attivate la campanella e commentate ciao ragazzi grazie a tutti